Paperino e il pappagallo contante in originale si intitola Donald Duck and the Pixelated Parrot, ossia Paperino e il pappagallo svitato. Entrambi i titoli sono buoni, in quanto un motore della vicenda sarà un pappagallo mezzo matto che seguita a contare incessantemente i caschi di banane scaricati dalla nave dove lo trovano qui, qua e qua. La grande forza della storia sta nella caratterizzazione e nella recitazione dei personaggi e anche nei dialoghi che Barks mette in scena, componendo delle sequenze veramente esilaranti un guaio dopo l'altro. In questa tavola, ad esempio, su cui vale veramente la pena di soffermarsi, la risata è scaturita dal dinamismo e dalle pose dei personaggi, insomma da ciò che fanno e da ciò che dicono, ma di esempi simili è piena la storia. Un altro elemento di pregio è la chiara regia di Barks, che in ogni momento topico ci fa presagire cosa accadrà di lì a poco a causa del pappagallo, posizionandolo in primo piano e lasciando l'azione significativa sullo sfondo. La scelta è sfruttata per esempio quando Zio Paperone declama ad alta voce la sua nuova combinazione o quando i ladri rivelano la posizione del loro covo segreto. Per quanto riguarda i ladri, dotati di maglioni, berretti e mascherine nere ma senza i numeri di matricola, c'è ragione di pensare che si trattino del prototipo della futura banda Bassotti, che comparirà circa un anno dopo in Paperino e la banda dei Segugi. Paperino e il pappagallo contante è importante anche perché ci fornisce la prima versione veramente moderna del personaggio di Zio Paperone. Qui infatti il vecchio avaro è lunatico, melodrammatico, burbero, esagerato, diventando di fatto molto più simile al Paperone che conosciamo oggi rispetto alle sue precedenti incarnazioni. Nella storia compare inoltre per la prima volta il leggendario cannone di Zio Paperone, con cui il miliardario è solito accogliere i suoi ospiti.